Ciao! In effetti è la prima volta che mi vedete senza crescreen ma questo non mi importa Ciò che state per vedere è praticamente una timelapse di un disegno che ho fatto D'ora in poi vorrei fare magari anche qualche video di disegno Volendo anche dei tutorial e magari qualche sfida di photoshop o qualcosa del genere Quindi comunque non solo tutorial inerenti a filmora e così via Naturalmente se vi possono piacere queste tipologie di video potete farmelo sapere con un commento qua sotto Quindi senza perderci in chiacchiere potete anche godervi da timelapse Grazie a tutti Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!